Ok, tu scegli il detersivo, ma io l'ammorbidente. Mister, ma sono tattiche superate. Mettiamo tutti in attacco. Esperto del bucato. Senza metafora calcistica, non ce la fai. Ma no, dai. E chi sono io? Babbo Natale! Per i regali Pumpa le donne farebbero follie. Sono la frutta. No! Tenerà a tenderli. Che giornata meravigliosa! No! È ora di pranzo. Dove siamo oggi? È a casa mia. Mia moglie per secondo sta preparando la Simmental. Bruciori di stomaco. Magnesia misurata. Chiamami Peroni. Sarò la tua birra. No! 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 Guarda. È venuta benissimo, ma che lavatrice è? Simens. Ah, Simens. Yes. Brio è solo Bassetti. 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 Grazie a tutti.